si buongiorno parlo con signor antonio sono mattia de sciglio ti sto chiamando da milanello volevo ringraziarti da parte della squadra e di tutta la società la sto chiamando da milanello continui a tifarci come ha sempre fatto bravissima stavi dormendo t'ho disturbato scuso tutto bene sono mattia de sciglio so che hai rinnovato l'abbonamento allo stadio bravo sempre comunque ma vivi a milano su del milano a primina bravo abbiamo bisogno di ragazzi come te c'è il signor giacomo sinceramente non ho idea di chi sia giacomo io ho un marco non so mi dispiace vabbè se dovesse fare se hai bisogno richiamami